Musica Ciao a tutti e bentornati nel mio mondo di plastilina Come promesso oggi impareremo a costruire dei pesciolini Quindi vediamo subito la corrente Plastilina verde, ho già preparato le palline Rossa, blu, arancio, gialla E poi tante piccole palline di vari colori Che serviranno per fare i decori, le squame, gli occhi, ecc Prendiamo il verde La pallina già pronta L'appiattiamo E anche a questo dobbiamo fargli una bella forma Così, prima di tutto Questo lo facciamo più snello E' un buon Musica E' un buon Musica 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 una e due ora questo magari va schiacciato così questa facciamo un po' così queste le allunghiamo e anche questo lo mettiamo da parte ricordiamoci che dobbiamo fargli una specie di base schiacciamo così in modo che qui abbiamo un altro pesciolino arancione già pronto quindi non facciamo la preparazione il pezzo più difficile il pesciolino verde adesso me lo metto qui così coppio allora per fare il pesciolino verde questo è uscito un po' strambo però man mano che vi esercitate uscirà sempre meglio anzi facciamo così facciamo che lo tagliamo ho togliato la coda e qua facciamo le puntine così un po' stretto a fare ok allora per il pesciolino verde ci serve tanto giallo qui abbiamo già qualcosa di pronto quindi tagliamo quindi tagliamo devono essere proprio fini fini questi perché devono ricoprire tutto il pesce e devono essere tanti uno è piazzato un altro lo piazzo proprio sotto così lungo tutto diciamo la testa anzi diciamo pure lungo tutto il pesce e sono quattro ora quello che c'è rimasto va benissimo per la coda ne dobbiamo fare qualcuno in più però quindi uno così siccome risulta troppo lungo lo tagliamo al posto così dai facciamo che qua i gialli nella coda sono tre anziché cinque come il primo così a questo mancano le palline blu visto quanto ci vuole poco allora mi sa che prima però gli facciamo l'occhio dobbiamo capire dov'è l'occhio così non non disturbiamo con le palline blu così un po' più piccolino degli altri la scena un pesciolino un pochettino cattiso è colorato però cattivo vediamo un po' come diventa no 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 è sorridente è sorridente con l'unghia gli facciamo l'occhio così dopo è pronto allora le palline dove capita diciamo qui sono messe un po' diciamo in ordine ma in disordine ora le metto tutte e poi ve lo faccio vedere come ultimo tocco mettiamo anche una pallina rossa sotto allora avremmo dovuto fare il bel cuccio ma non ce l'abbiamo fatto non importa al prossimo ecco qui mi piace allora vediamo se abbiamo fatto tutto abbiamo fatto il pesciolino rosso il pesciolino giallo e facciamo tutte le fotografie pesciolino verde ma potremmo finire facendo un altro pesciolino arancione come potremmo decorarlo questo sembra un pesciolino piuttosto grosso magari lo facciamo diventare un pesce martello per farlo diventare un pesce martello potremmo fare così allora questa è la coda però mi sa che gli cambiamo la destinazione allora facciamo diventare il naso facciamo così ok così a formare il martello bellino vero? poi vabbè il pesce martello come ce l'ha quella coda non lo so però boh gliela inventiamo così se questo è il naso l'occhio dove ce l'ha? qui? boh facciamo un a codino oggi inventiamo anzi no mattarello così allunghiamo tutto quanto lo appiattiamo e diventa più lungo e più fine schiacciamo ancora qui ok mi sembra più bello adesso eh si martello lungo oi troppo lungo così questo lo rischiacciamo ok e questo è il nostro naso qui lo allunghiamo boh un po' così un po' così stringiamo boh sta scendo bellino non lo so ma alla fine sicuramente verrà bene così una pinna a due punta ascolta facciamo finta che è un pesce martello non è il classico pesce martello però a noi ci piace così giusto? ha messo me lo direte voi allora martello davanti occhio bianco nero insomma beh di per sé il pesce martello non è che sia bellino è curioso perché c'è questa forma davanti però non è bellino facciamo finta che il nostro pesce martello mixato è pronto lo appoggiamo così ci andrebbe bene una bella scenografia blu col fondale magari giallo scuro con le alghe possiamo usare anche il ritaglio per fare le alghe così facciamo anche bellissimo così le ultime alghe così vi ho insegnato anche a fare le alghe visto quanto ci vuole può aumentare le cose quando si ha la plastilina in mano un po' di fantasia un po' di pazienza ecco fatto ora fotografiamo i nostri pesciolini e non ho ancora pensato cosa fare nel prossimo tutorial adesso ci penso poi decido e lo prepariamo per oggi è tutto vi saluto dal mio mondo di plastilina alla prossima puntata un bacio ciao 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 Grazie a tutti